Allora, lei, diciamo, se ci mette tutti i titoli, o anche gli algodoni, secondo me, se vuoi mi species? No, 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 è solo un canale, ma ho evitato una citata al canale 때문에 di che non allora stavo dato un cosa. Presente, nonosarcile, che va tutto per retta perché penso che che i acquisiti uno che che è stato esautivo nella richiesta che deve essere portata, ci sta ovviamente anche l'autorizzatore. E' evidente che solo adesso riesco a leggere questa nota che il lega, il quale nella lettera è abbastanza circostanziata rispetto alle, diciamo, contestazioni del immobile. E dato che il collega Costino in un attacco manda che l'immobile è un pochione, ma se l'è contamente il seguente con un immobile che lei ha pensato in un'opportunità del permesso di costruire, dice che tanto ha servito il suo posto, anche questo, davanti alla proprietà di un'attività, e lui che risponde ne ha già ordinato la revisione. Ma una cosa che è a causa sua, diciamo, centralità e importanza è lei, che è l'uomo delle istituzioni, tutto questo non potrà soffrire. Al di là dell'attività, per lei, dall'attività di attacco, è una cosa che è sicuro che il collega Costino fa il premesso di un presunto giudizio, anche qui molto circostanziato e che importa anche il numero di loro generale, quindi suppongo che le sue conti siano conti e hanno trovato attività. Ma diventa, come dire, l'aspetto politico, oltre che quello tecnico che, diciamo, il domenso vada, dicmanizzato in quest'altro, che è sempre vero che il consigliere discorso di un'attività che il collega Costino ha sollevato nella parte in cui dice che tra l'altro lei è stato determinante al volto del piano politico comunale al di là del fatto che lei ha si possiede potenze 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 potenze. Da l'altro sarebbe veloce che il collega il consulzio che volete potenze 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 potenze, quindi, come dire, io mi farei una ragione oltre che un bene tra le canzioni, legato quindi al razzuramento l'aggiornamento che ha fatto dalla sua legalità e anche prima dalla sua legalità, ma ne faremmo ragioni di opportunità politica, quella di convocare con immediatezza un Consiglio Comunale finanzato alla votazione, e quindi da un giudicato di opportunità a questo futuro di un buon giorno di soli. Cioè, è evidente che da dove c'è una malvezza esercita e circostanziata, accusa che il Consiglio è a conoscenza. Dipende, a un'altra è una questione etica, e da lasciare un'altra come lei ha detto, come le avranno scritto, come le avranno scritto, domanda, signora, signora, signora. C'è una religione che può contattare, che a lei, un uomo attento nelle istituzioni, del Consiglio Comunale finanzato, non potrà succedere. Quindi è evidente che, e questo, riusciamo a dire a nome, un vero, personale, di tutto, io faccio un bello tempo, affinché il ripreso, per questo che vi devo fare una persona, in questa seconda, una testa che a trete sospeta, proprio per trete ragioni, perché lei ha detto che non mi hanno lavorato. La mia consiglia è una sorpresa che è quasi una lei, che mi lascia completare, però mi sto parlando di qualche altra cosa, è evidente che è con l'attuto, diciamo, l'interesse che abbiamo visto congenza, focale, che è politica, di convocare, per esempio, un consiglio comunale, coraggione, detto, un tempo facilità. Grazie.